Le sospensioni, ovvero un elemento determinante nelle competizioni a due ruote. Conosciamole un po' più da vicino, attraverso uno dei massimi esperti, Giuseppe Andreani, che milita nel settore da anni e che delle sospensioni può raccontarci anche l'evoluzione. Credo che negli ultimi vent'anni, ma anche negli ultimi dieci, le moto abbiano avuto sostanzialmente un cambiamento grandissimo. Nel fuoristrada, ma anche nella pista, hanno raggiunto una sorta di perfezione. Parlerei di moto perfette, però sicuramente fra cinque anni andranno meglio, quindi quella di adesso non è perfetta. Però le moto sono diventate guidabili, sono diventate leggere, belle da mandare, più facile avvertire il limite. Questo però ha anche portato ad un'esasperazione in tutte le cose, quindi il nostro lavoro è diventato ancora più difficile. L'andare bene e l'andare male spesso hanno un limite molto vicino. Bisogna essere precisi in quello che si fa e questo ha portato, di conseguenza, all'interno della nostra azienda un'organizzazione profonda. Ormai tutto è basato su computer, su dati, le altezze, le regolazioni, le cose nascono da uno studio che viene fatto sul telaio, sulla moto. Tante volte nelle gare in particolare, due millimetri più alti dietro, più bassi davanti, possono creare una differenza. E poi ci sono tanti fattori che influiscono, il tiro catena, l'angolo di servire. Sono tantissimi fattori, perché le moto di oggi sono così raggruppate, così curate, così precise in tutte le loro componenti, per cui bisogna saper centrare perfettamente la modifica per riuscire ad andare meglio. Oltretutto ci troviamo a lavorare anche con un prodotto originale che sempre di più esce e viene introdotto nel mercato a livelli alti. Non c'è più la moto che va male adesso, le moto vanno tutte bene. Noi dobbiamo fare una differenza importante, per fare questo dobbiamo lavorare molto, molto di fine. E per fare questo ci vuole una grande organizzazione. Per anni le moto che uscivano di serie, se parliamo di sportive stradali, venivano consegnate adatte ad un uso stradale. E noi dovevamo modificare queste moto per andare in pista. Quindi le modifiche erano drastiche, nel senso che si abbassavano le moto davanti di 5, 6, 7 mm e si alzavano gli ammorzatori dietro di 2, 3, 4 mm, perché le moto erano nate per autostrada. E quindi si facevano dei cambiamenti drastici. Credo che forse una delle prime moto che è nata già con un'impostazione Rezzi che è stata la Yamaha, non l'ultimissima generazione, ma la generazione precedente, chiedo sia 2006-2007. Quella era già una delle moto per cui ci troviamo spesso a viaggiare più alti davanti. Quindi siamo partiti con il solito atteggiamento mentale e ci siamo trovati che invece era sbagliato, perché la moto era già consegnata con un assetto sportivo. E quindi di lì poi è nato tutto un cambiamento importante, perché ci accorgevamo che i cambiamenti di millimetri tante volte erano troppo, dovevamo muoverci meno e comunque dovevamo mettere nel nostro pacchetto tutta la moto. Non potevamo pensare all'ammorzatore o alla forcella, dovevamo pensare alla moto nell'insieme, perché un buon ammorzatore e un buono forcella non facevano la differenza tante volte, perché c'era qualcos'altro fuori posto. E di lì è nata tutta la ricerca sulle geometrie delle moto, sui programmi. Quando consegniamo un ammorzatore non deve solo avere una buona idraulica e una buona molla, ma deve essere anche della giusta altezza, così come la forcella deve essere posizionata nel giusto modo. Una buonissima moto, 5 mm più bassa davanti, non funziona, non va, non si riesce a portarla agli altri livelli. E forse la prima che ha dettato questa legge è stata la Yamaha, perché ripeto, normalmente prima si usava una prassi, le moto venivano caricate davanti e alzate di dietro per cominciare a curvare. Quella moto lì è stata la prima, per cui in alcune gare dovevamo anche fare il contrario, alzarla davanti per trovare l'ottimo. E lì è nato forse il lavoro più importante, se parliamo di moto di serie. A livello di gruppo forse il rischio e il cambiamento più grande l'abbiamo fatto quando ci siamo trovati a gestire il Tencate nel 2007-2006, perché eravamo white power, loro si sono ritirati dalle gare, e quindi abbiamo dovuto gestire tutto noi, quindi eravamo Yamaha Europa nella Supersport e tutto il Tencate. E all'inizio devo dire che le responsabilità per noi erano grandi, eravamo agli inizi ed era un salto lunghissimo. Però abbiamo lavorato a soda, abbiamo preso i nostri rischi e alla fine il Tencate ha vinto e questo ci ha portati ad una conoscenza e una forza interiore migliore che ci ha dato gli strumenti per continuare. Credo che si sia arrivati ad un livello molto alto, la differenza di qui in avanti la farà l'elettronica, come è successo nel mondo delle auto, come poi aveva fatto Haga e Corsair con la Yamaha l'anno scorso e le ultime gare. Hollins è già pronta da anni con questa tecnologia ed è già pronta anche nel motocross. Adesso è stata fermata per limitare i costi, ma io credo che in un anno o due dovrà essere di nuovo liberalizzata. In quel momento l'elettronica porterà e sposterà i limiti più avanti, è inevitabile. Per il resto credo che per l'efficienza che le case produttrici hanno comunque ci sarà un miglioramento, perché ogni modello di moto nuova che esce va un po' meglio, un pochino meglio. È più facile in frenate, è più facile nell'accelerazione, è più facile nel cambio di direzione, quindi ci sono tante piccole cose che vengono ottimizzate. Secondo me nel mondo dello sport non resterà mai uguale, anche perché i piloti inventeranno sempre dei limiti diversi, adesso anche a livello proprio tecnico ci sono psicologi che possono riuscire ad aiutare i piloti, ci sono delle tecniche di concentrazione, le cose cambiano, vanno avanti, migliorano le moto, migliorano i piloti, migliorano le gomme soprattutto, che sono una componente importante. Non credo che lo sport, la moto in particolare, si possa fermare, ci sarà sempre qualcuno che inventerà qualcosa di più performante, e se non lo inventa qualcun altro se lo inventa il pilota stesso, però le gare daranno sempre qualcosa di più. Io spero solo che queste modifiche, questi cambiamenti non tolgano lo spettacolo, che nella superbike in particolare, ma comunque anche in altre discipline, è ancora molto forte, a differenza delle auto e di altre discipline. Speriamo che queste nuove tecnologie non vadano a togliere quelle emozioni che si vivono in televisione o in pista quando si guardano le gare.